Il tuo consulente Agrometeo ti dà il benvenuto su Angro Notizie. Il tempo ha previsto nei prossimi dieci giorni all'incirca fino al 27-28 di gennaio. Una novità di rilievo e all'inverno, dopo un lungo letargo, sembra voglia svegliarsi con una zampata finale di freddo. Freddo che però interesserà sì tutta l'Italia, ma sarà intenso, direi per la prima volta più intenso che dall'inizio dell'inverno, sarà più intenso sulle regioni del Medio-Basso Adriatico. Comunque si avvertirà freddo su tutto il centro-sud soprattutto, non farà freddo invece sulle isole maggiori. Ma andiamo con ordine. Che cosa avviene? Arriva un nucleo di aria artica. Aria artica significa dall'area più vicina al polo, perché arriva addirittura dal nord della Gorollania, come potete vedere da queste immagini. Quindi questo nucleo di aria artica attraversa rapidamente il nord atlantico, si porta solo a Norvegia e poi scende fino ai Balcani. E da qui poi il 21 riromperà sulle regioni adriatiche, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, ma interessante, come dicevo, soprattutto il Medio-Basso Adriatico. Allora, vediamo quale fenomeno porterà. Innanzitutto saranno due ondate di freddo. La prima ondata, appunto, questo primo nucleo di aria artica che arriva fino ai Balcani e poi sulle regioni adriatiche. Ma il ciclone che contiene questo nucleo freddo, tra il 24 e il 25 si avvicinerà ancora più alle regioni del Medio-Basso Adriatico, dando luogo tra il 24 e il 26 a una seconda più intensa ondata di freddo. Ma andiamo con un ordine. Le piogge, sì, ci saranno piogge deboli, molto deboli. Piogge il giorno 20 su Emilia, Romagna, regioni tirreniche, e tra il 21 e il 24 piogge qua e là deboli al sud. Ci saranno nevicate, sì, ci saranno anche nevicate, fino a quote molto basse, ma essendo l'aria molto fredda, addirittura a temperature di 8-10 gradi sotto zero, la quota di 1500 metri, come è noto, l'aria molto fredda contiene poco vapore, quindi le nevicate a cui dare luogo quest'aria fredda saranno piuttosto debole, più coreografiche che realmente visibili. Il 21, venerdì 21, appunto, nevicate su Abruzzo-Molise oltre 400-600 metri, con un accumulo inferiore a 5 centimetri, nevicate sulla Calabria oltre 800 millimetri. Sabato 22, nevicate fino alle morge, quindi ne diamo dire fino a 200-300 metri di quota. Il 23 ancora, diciamo, una tregua dell'ondata di freddo, perché il 24 poi in effetti arriva la seconda bordata di freddo. Il 24 ancora debole, nevicate su Abruzzo-Molise, Lucania, Calabria e Puglia, quote fino a 100-300 metri. Il 25, nella prima parte del 25 gennaio, addirittura qualche fiocco potrebbe arrivare anche sulle coste della Puglia. Ripeto, queste nevicate saranno piuttosto debole. Insisteranno anche tra il 26 e il 28 ancora qualche debole nevicate su Abruzzo-Molise, Campania, Lucania, Calabria, ma sempre con accumuli quasi, diciamo, modestissimi, cioè intendo dire senz'altro sotto 5 centimetri. Per quanto riguarda le temperature, ovviamente ci sarà un crollo termico al centro-sud delle regioni adriatiche tra il 21 e il 22, un calo delle temperature massime che da 10-12 gradi passeranno a 5, 6, 7 gradi, soprattutto sulle regioni del medio adriatico, sulla Puglia, sulla Lucania, sulla Calabria. Il 23 tregua tra il primo nucleo d'aria fredda e il secondo, il 24 e il 25 di gennaio, nuovo crollo termico per il vortice freddo che si avvicina all'Italia, quindi è freddo al centro-sud. Il freddo si avvertirà, insomma, tra il 21 e il 27 di gennaio, soprattutto al centro-sud, sia per il calo termico, sia per i geli di venti in arrivo da Balcani, che saranno o di Bora o di Grecale, e molto più spesso di Tramontana. Giovedì 20 ci sarà un evento di FEN sulle regioni di Nord-Ovest, freddo moderato invece, per quanto riguarda tutto questo periodo, sul Nord Italia, basso Tirreno, regioni ioniche. Non farà freddo sulle isole maggiori. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.